La mettiamo sul video, mi giuro, fare questo video qua mi sembra una roba folle. Questi, bella ciao, i socialisti nel Parlamento Europeo, bella ciao. E così io guadagno una pagina sul giornale, no? Sto chi è insenato trottolino amoroso. Mamma mia, l'Italia dei verdi, dei puccini. Ma come fai a fare un commento anche su il Senato d'Italia? Trottolino amoroso, esti qua, bella ciao. Guarda, rido per non pianzer. Ma cosa che insegnante ai fioi? Che questi li rappresenta l'Italia in Europa? Non ce ne ha la frutta, senza proprio il macero totale. Per far parlare di loro, rido per non pianzer. Ma vi rende conto il livello culturale e il livello di questa nazione italiana? Popoli liberi, liberiamoci dell'Italia. Perché questi qua che non sa più cosa inventare, perché il giornale che aveva a dire qualcosa. Ma sai quanti disoccupati che c'è in Italia? Il casino che c'è? La Rai che c'è un buco, una voragine totale come l'Italia. L'Italia che non esiste più. Allora, quelli che stanno anche a prima, si è venduti fuori. Tutta l'Italia si è venduti fuori. Si è venduti l'Italia. E noi? Esti qua e canta trottolino amoroso. E che è la sempre strada. Che è le persone che non hanno neanche una casa. Che non hanno lavoro. Una disperazione totale. Trottolino amoroso. E bella ciao al Parlamento. E in Italia imperversa le sardine. Ma almeno un po' deve cantare finché la barca va. De orietta Berti finché la barca va. Re, stena, gala. Perché bisogneria cambiare le parole. Canta quella che le è meglio. Cioè, ma veramente? Ma se no, la frutta. Di qua è al macero. Cioè, l'intelligenza umana di questa nazione la fa queste rappresentazioni. Ma, scusa, presidente Mattarella? Non dici nulla di queste. Queste sono cose serie. No, queste le robe sede. Non ti dici niente. No, perché Mattarella è il presidente della Repubblica. Le B2E ormai in Trentino. Non si capisce come mai che il presidente della Repubblica le è abbolzando. Dopo la settimana che viene sarà Trento. Le è sempre da queste bande. Le è di Palermo, no? Una regione disastrata. Ma va a Palermo a trovare i tuoi concittadini presidente Mattarella che le è meglio. Cioè, ma qua, gavente qualche dunia di serio. Che parla. Le televisioni, è meglio non pizzarle perché ormai l'indirizzo è quello. A morte Salvini. Fascista Salvini. Cioè, questi qua è talmente ignoranti pochi che fa una pubblicità sfrenata, no? Perché mi ricordo quando favo sport che mi diceva l'allena attorno. Sta mai girarti, Andrea, guarda, rendo che è il secondo, se te sei primo. Perché te ciappa. E sti qua e continua a parlare dell'avversario ed è ovvio che gli passerà via, insomma. Mamma mia, trottolino amoroso. È bella. Ciao. Questa l'è l'Italia. È una nazione che io non penso di appartenere, sinceramente. Mi sono tirolese, tagliando sarò mai a morte perché proprio, mi non so, mi non so, veramente. Carnevale, carnevale tullanchi, va bene, non? Con la gente che muore di fame e che non gagne neanche i soldi a pagare le bollette con le banche che scioppa, no? Perché chi non sa bene come la va a finire. Io roba 138 miliardi di euro tra condoni e le lot machine, tra, aspetta, cos'è che io fate? Dà che soldi all'Italia? Dà che soldi alle banche? Cioè, chi? La gente, l'è sotto? Se aveva spremi i limoni, come che lo fa? Spremi i limoni, lo fa così. Ecco, finché vennerà fuori una gozza, qualcosa, allora continuano a spremerla. Però l'importante è che Trattolina, Amoroso, è bella, ciao. Sicuramente l'hanno avanti a testa. Tutte le classifiche della demenza umana, no? Perché le persone serie, non so neanche se l'ha vista, perché anche a me sono da qui che ormai la televisione non hanno pizza. Prima onda 30. Ciao a tutti. Le mei o che gheri dentro è sola per non piangere, perché qua è veramente da piangere. Se questa era l'intelligenza di chi che governa, siamo alla frutta. Ciao a tutti.